Elezioni, i verdetti delle urne per politiche regionali, le aspettative dei nisseni dopo il voto. Fiera di San Michele, avvio in sordina all'ex foro Boario. Sport, calcio, Coppa Italia, Nissa Acragas al Palmintelli, mercoledì alle ore 15.30. Dopo le sonero di Settineri, per la guida tecnica circola il nome di Alessio Sferrazza. A 48 ore dal voto termina lo spoglio delle 56 sezioni di Caltanissetta. Alle urne si è espresso solo il 48,26% degli elettori, con il tasso di estensionismo del 51,74%, tuttavia in linea con il resto dell'isola. Premiato il futuro governatore della Sicilia, Renato Schifani, con il 35,94% dei voti nella coalizione del centrodestra, seguito dal 22,95% di De Luca con Chiamanord. 21,27% di voti a Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle, 17,92% di voti a Caterina Chinnici del PD, 1,43% di voti per Armavo Azione Italia Viva e 0,49% degli anni esposito di siciliani liberi. All'Ars da Caltanissetta entreranno come deputati a Palazzo dei Normanni a Palermo il Nisseno Michele Mancuso di Forza Italia, riconfermato anche in questa tornata elettorale. Il gelese Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle sarà deputato, sebbene sconfitto come governatore, e Giuseppe Catania con Fratelli d'Italia, ex sindaco di Mossomeli. Tra Montecitorio e Palazzo Madama, a Roma il centrodestra, vincendo porta 14 dei 18 collegi. La lista di De Luca guadagna un posto alla Camera e uno al Senato. Il Movimento 5 Stelle vede due seggi uninominali di Palermo, di Davide Aiello e Dolores Bevilacqua. Sconfitta in quota di Maio l'ex ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, visto il mancato raggiungimento del quorum. Invece sarà in Senato nell'Omusumeci l'ex governatore dell'isola. In Parlamento ci saranno Michela Brambrilla, Marta Fascina, compagna di Berlusconi, Stefania Craxi, l'agrigentino Pisano. È tempo di bilanci il giorno dopo le votazioni politiche sia nazionali che regionali avvenute nella tornata elettorale di ieri. Ne abbiamo parlato con alcuni cittadini di cosa pensano, delle loro reazioni e le loro aspettative. Beh, ci aspettiamo che mantengono intanto le promesse che hanno fatto. Io spero che si riprendi un po' anche a lavorare, perché secondo me chiuderanno un bel po' di attività fra un po'. Dovrebbero fare anche, aiutare anche i giovani disoccupati. È un cambiamento radicale, sperando in bene, che porti qualcosa di positivo e che soprattutto per la nostra città. Ciò che decide il popolo, a mio avviso, è la cosa giusta. Siamo fiduciosi, soprattutto a livello nazionale, che la Meloni possa fare qualcosa per le partite IVA. In particolare nel programma di governo sono previste una serie di agevolazioni che potranno dare un aiuto, un contributo alle nostre attività, soprattutto per quanto riguarda le assunzioni con degli sgravi o ancora una riduzione delle tasse. Quindi, tutto sommato, siamo fiduciosi e speranzosi che le cose possano migliorare. Tra il maggio e il luglio del 2019 aveva commesso tre furti tra Serra di Falco e Canicattì insieme ad altre persone e per quelle accuse è stato condannato a 5 anni e 2 mesi. Adesso la giustizia gli ha presentato il conto per i suoi trascorsi ed è scattato l'ordine di esecuzione pena per un disoccupato di 43 anni di Canicattì, il quale è stato arrestato dai carabinieri e condotto nel carcere agrigentino di Contrada Petrusa. Ad emettere l'ordine di esecuzione della pena è stato l'ufficio esecuzioni penali della procura di Caltanissetta. I militari dell'arma si sono presentati a casa dell'uomo, il quale ha capito subito la ragione della presenza dei carabinieri e le ha seguiti senza fare resistenza. Dopo aver sbrigato le normali pratiche burocratiche del caso, il 43enne è stato accompagnato in carcere per scontare la pena. Nuovo aggiornamento sui dati relativi ai contagi da Covid. Il Ministero della Salute ha comunicato che gli ultimi dati certificano la presenza di 10.008 nuovi pazienti positivi, dei quali 391 in Sicilia. Per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta, nelle ultime 24 ore si è avuto un riscontro di 7 pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. Due sono di Caltanissetta, due di Gela, due di Mussomeli e uno di Sutera. Ricoverato in degenza ordinaria un paziente di San Cataldo. Dieci le persone guarite dal Covid, cinque sono di Gela, tre di Caltanissetta, uno di Mussomeli e uno di Santa Caterina Villarmosa. Nonostante il tempo non clemente, ieri è iniziata la fiera di San Michele all'ex foro Boario. Il maltempo che si è riversato su Caltanissetta ha creato alcuni disagi sugli operatori ambulanti, che rimarranno sino a domenica 2 ottobre. Un avvio dunque in sordina, quello della fiera, che tutti gli operatori del settore si augurano che possa migliorare giorno dopo giorno e che le condizioni climatiche possono aiutare nella buona realizzazione della fiera, che quest'anno riunisce in un unico sito, appunto quello dell'ex foro Boario, oltre le bangarelle anche le giostre. Alcuni ambulanti, per colpa del maltempo di ieri, si sono ritrovati a montare proprio in mezzo al fango, causando loro non pochi problemi logistici. Una scelta quella dell'ex foro Boario che al momento non trova pareri confortanti tra ambulanti e cittadini, ma si spera che vada tutto nel migliore dei modi. C'è questa campagna e acqua, cioè non c'è asfalto, non c'è niente per essere una fiera, però i soldi del solo pubblico sono stati uguali a una fiera, un pagamento di una fiera buona, perché il solo pubblico è stato caro, ma la fiera, la piazza dov'è? Cioè stiamo in campagna, la roba per i capitali, il caso si rovina tutto, non si può esporre, non si può lavorare, perché stiamo di mano e sporchi campagna da ieri. Questa è una prova che stiamo realizzando quest'anno, perché ci sono anche le bancarelle vicino e quindi si presume che sarebbe una cosa molto positiva sia per noi che per i fieranti, per le bancarelle che ci metteranno a fianco e vicino a noi. Quindi io spero che vada abbastanza bene, sempre tempo permettendo. Sono fiducioso. Oggi è una gara di cucina e rientra nel parco dello Stile Vita dei Terranei, di cui Trotari è il primo sottoscrittore. Questo patto è stato sottoscritto tre anni fa dalla Presidente Marcella Milia con la Sessione Nicoletti, il Comune di Caltanissetta. Oggi è la giornata in cui il patto ha la sua massima espressione perché si trova a Torino, alla manifestazione di Slow Food Terra Madre, con cui ci collegheremo più tardi e faremo una diretta con la Sessione Nicoletti, proprio perché questa giornata rientra perfettamente in questo patto. E' così che il Presidente del Rotary Club di Caltanissetta commentava all'inizio della manifestazione di domenica 25 settembre, mentre infatti il Comune era presente a Torino alla quattordicesima edizione di Terra Madre per la presentazione del primo parco dello Stile di Vita Mediterraneo, il Rotary Nissen e quello San Cataldese si sono sfidati a Caltanissetta a suon di ricette mediterranee e prodotti del territorio e di tutta l'isola. E' stata esaltata infatti la sicilianità anche attraverso i costumi tipici indossati da alcuni dei presenti. Sono qui con il Presidente del Rotary Club di Caltanissetta, Fabio Tornatore, che ringrazio vivamente per l'invito che ci ha fatto per partecipare a questo Interclub. L'Interclub che ha come tema principale la sicilianità, quindi tutti i prodotti tipici ovviamente cucinati siciliani da noi. Il piatto che si è giudicato, il primo dei tre premi per i primi classificati, è stato proprio quello di Marcella Milia con la sua parmigiana di pesce spada. Archiviata la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche, la San Cataldese cerca riscatto in Calabria, sul campo del Cittanova. Incontro previsto domani, mercoledì 27 alle ore 15, un turno infrasettimanale che arriva dopo una lunga sosta. L'avversario è reduce da un pari a reti inviolate ad Acireale. La partita si preannuncia difficile, ma la San Cataldese non può concedersi ulteriori battute d'arresto dopo l'eliminazione della Coppa Italia e il capitombolo casalingo ad opera del Sant'Agata. C'è fiducia e aria di ottimismo attorno alla squadra allenata da Matteo Vullo. Anche i tifosi guardano con serenità al futuro, consapevoli della qualità della rosa. Ma adesso occorre fare punti anche in vista del derby di domenica 2 ottobre al Valentino Mazzola contro il Canicattì. Un confronto ricco di precedenti anche in eccellenza con le due tifoserie gemellate da tempo. Il quadro completo delle partite della seconda giornata. Canicattì Acireale, Sant'Agata Realla Versa, Cittanova San Cataldese, Paternò Santa Maria Cilento, Mariglianese Ragusa, Vibonese Licata, Castrovillari Lamezia, Catania San Luca, rinviata al 12 ottobre Locri-Trapani. Impegno infrasettimanale di Coppa Italia per la Nissa che domani, mercoledì 27, affronterà l'Acragas al campo sportivo Palmintelli di Viale della Regione per l'indisponibilità dello stadio Marco Tomaselli. Fischio d'inizio alle ore 15.30. I biancoscudati sperano di aggiudicarsi la gara di andata degli ottavi di finale della fase regionale di Coppa per giocarsi con serenità l'accesso ai quarti nella partita di ritorno in programma mercoledì 12 ottobre all'esseneto di Agrigento. Attraverso la pagina Facebook la società Nissena ha già reso noti i prezzi dei biglietti. Tribuna coperta 10 euro, tribuna scoperta 7, gradinata riservata al settore ospiti 10, prezzi ridotti per gli spettatori dai 13 ai 18 anni e over 70, ingresso gratuito fino ai 12 anni. Intanto si attende che la società ufficializzi il nome del nuovo allenatore dopo l'esonero di Alessandro Settineri, maturato dopo le prime tre partite di campionato. In merito al nuovo tecnico, negli ambienti calcistici cittadini, circola con esistenza il nome di Alessio Sferrazza, già alla guida dell'Atletico Nissa e in passato dello Sport Club Nissa. La scelta potrebbe essere ufficializzata prima della gara casalinga di domenica contro la Parmonval. Tornando alla partita con l'Akragas, indisponibile Mattia Retucci. I tempi del recupero fisico oscillerebbero tra le tre e le quattro settimane. Il quadro completo delle partite di Coppa Italia. Taormina Leonzio, Comiso Modica, Enna Don Carlo Misilmeri, Nissa Acragas, Rocca Acquedolcese, Nuova Igea, Mazzarese Sciacca, Palazzolo Siracusa, Resuttana San Lorenzo, Parmonval. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'Italia continuerà ad essere esposta un flusso di correnti umide e fresche nordatlantiche che attraversano il nostro paese provocando condizioni di instabilità, specie sui versanti tiranici e al nord-est in mattinata. Vediamo nel dettaglio la mappa delle nuvole che ci mostra come frequenti addensamenti attraversano l'Italia interessando soprattutto il Triveneto ma poi anche il centro-sud. Infatti dalla mappa delle precipitazioni notiamo come siano soprattutto il nord-est a inizio giornata ma poi anche i versanti tiranici coinvolti da precipitazioni a carattere sparso. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta nel corso di martedì sull'Italia. Avremo una mattinata più instabile sul Triveneto in parte anche sull'arco alpino con pioggia, acquazzoni e anche qualche fiocco di neve sulle Alpi fin verso i 1500 metri di quota sui settori confinali più orientali. Mentre una maggiore presenza nuvolosa continuerà a insistere sui versanti tiranici del centro-sud con la possibilità per nuove piogge e acquazzoni a carattere sparso in un contesto di generale variabilità. Maggiori schiarite invece sul versante adriatico. Clima sempre molto frizzante di notte al mattino. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.